E la musica invece? La musica negli spogliatoi? No, la musica negli spogliatoi è un tasto dolentissimo Perché? Perché? Eh, perché la musica che ascoltano, diciamo, i giovani di oggi non è la mia Te cosa ascolti? Te ascolti rock? Io ascolto rock principalmente E i giovani invece ascoltano l'hip hop? Hip hop, ritmo in blues Poi salsa, i spagnoli Sì, poi c'è un po' di solito Nello spogliatoio della Stamidoria chi è che decide la musica? A chi lascio decidere la musica? A chi lascio decidere la musica? Noi nello spogliatoio non la mettiamo tanto È più in sala di fisioterapia Ah, lì dentro no? No, no, la mettiamo, però meno Perché comunque abbiamo un'altra sala, c'è la palestra Lo spogliatoio vuole parlare Non mettiamo la musica a tutto spiano Anche perché non abbiamo lo spogliatoio così grande Chi è il più pazzo che avete adesso a Genova? A parte te Ma no, guarda, ti dico pazzi non? Chi c'è di pazzo? Qualcuno fulminato, qualcuno Tipo alla Cassano per dire Ma no, non abbiamo nessuno Ma zero Niente Siamo una spada di troppi bravi ragazzi Eh, immagino, immagino Ma no, guarda, ti dico pazzi non? Grazie a tutti.